arrivato l'altro pacco della faberlic quindi altro spacchettamento andiamo a vedere insieme cosa è arrivato in questo ordine come al solito troviamo il cartone a protezione florable finalmente mi è arrivato il nuovo catalogo che oggi me lo studio la campagna 10 che parte dal 29 bellissimo poi altri sconti ce ne sono altri tre tiro fuori tutto poi vi faccio vedere come al solito tiriamo tutto fuori la mia bella tinta perfetto allora iniziamo da qua in questa busta troviamo questo che è uno lo shampoo ricostitutivo per capelli danneggiati da 250 ml questa è della linea salon care che deve essere ottima quindi ho preso lo shampoo da provare ho preso della stessa linea la maschera per i capelli e questa maschera per capelli danneggiati da 30 ml come al solito poi li provo sono proprio della stessa linea li provo e poi faccio sapere comunque le maschere che ho provato fino ad ora sono fantastiche ho preso il misurino per il detersivo quello in polvere della linea bio biomica perché la faberlic ha veramente tantissime linee per la skin care questa è adatta per purificare la pelle quindi è gel micelare per il lavaggio però è adatto a tutti i tipi di pelle anche a quelle sensibili perché sono comunque delicati ph 5.0 lo provo un altro deodorante ho fatto un po di scorta sempre della linea salon care ho preso questo ok quindi fa mi hanno invertito le etichette questa è la maschera per capelli e cheratina mentre questo è un filler rigenerante per capelli e può essere applicato da capelli bagnati prima della sciocatura per aiutare con la messa in piega e da lucentezza i capelli e per capelli secchi come ultimo passo su tutta la lunghezza dei capelli e massaggiare dopo lo shampoo per un trattamento intensivo oppure si può aggiungere e due o tre gocce del siero sia allo shampoo o il balsamo o anche alla maschera per potenziare i loro effetti fantastico ero proprio curiosa stasera mi li devo lavare quindi lo provo subito quello qua è fatto proprio un siero per i capelli adoro adoro poi ho preso il fondotinta il fondotinta e siero no siero tono colore rosso rosa naturale e questo dicono che un film fondotinta fantastico bellissimo anche il peccolo trovo di un'aleganza pazzesca dicono che ha una buonissima coprenza e però e non è pesante adatto anche a chi come me la pelle grassa che questo in questi giorni magari poi vi faccio un video completo sulla mia pagina facebook ho preso un altro smalto di questi perché mi piacciono da morire ho preso questo colore questo l'ha ordinato mia sorella perché gliene ho parlato benissimo sbianca i denti e con il 97 per cento di ingredienti naturali quindi meraviglioso veramente e poi mi sono presa anche la cipria perché anche di questa era semplice parlare benissimo la cipria adatta sempre della linea sport in play quindi adatta per il caldo resiste all'acqua non aiuta a non far lucidare la pelle e resiste a far resistere il trucco di più anche questa poi la proveremo insieme in qualche video sul mio canale poi questa l'ho presa per il regalo di compleanno della mia amica fortuna mi ho preso questa da provare e anche un profumo ovviamente infatti non posso aprirlo poi magari ce lo dirà lei com'è il profumo quando lo riceverà e quindi vi ho preso e blon muc di orra il profumo e la macchiera da aggiungere altre cosine che avrà poi ovviamente poi qui c'è una barretta che avevo preso per diego questa volta gliel'ho presa al cioccolato gli piacciono tantissimo queste sono barrette proteiche e quindi sono ottime per chi vuole mantenere la linea fast pot come snack durante il giorno spesso anche la fame ho preso un'altra di questi fiale che sono fantastiche queste possono essere utilizzate e sia come trattamento notturno sia in posa lasciarle in posa dai cinque dieci minuti e poi lavare e aggiunti possono aggiungere alla maschera si può aggiungere alla tinta per i capelli quindi un trattamento pazzesco super intensivo allora vediamo qualche c'è a qui c'è un campioncino dell'aromaterapia all'ammorbidente questo dovrebbe essere vaniglia buco un campioncino che profumo della mamma mia pazzesco a questo è un prodotto fantastico questo è il della linea occhi ology è il leggendario ossigeno in balsamo in pratica è un prodotto che può essere applicato sulle irritazioni della pelle e dopo 30 minuti cura la pelle quindi punture d'insetto bruciature allergie irritazioni dicono che è un balsamo miracoloso veramente siccome diego e nicolas hanno la pelle molto delicata diego è anche allergico al nichel quindi si formano spesso bolle con la cinta e sui piedi per le scarpe nicolas lo pungono le zanzale quindi dicono che è miracoloso questo prodotto lo userò poi vi farò sapere come al solito lo aspettavo con tanta gioia ho preso una tinta da provare amore una tinta da provare della linea e salunker sempre che è questa qua degli sciampi sto togliendo il viola e quindi ho preso questo che è il 3.0 e sarebbe e cioccolato fondente bellissimo lo faccio e poi vi dico mi hanno parlato benissimo di queste tinte al suo interno troviamo il tubetto c'è la la miscela insomma il tubetto con del colore il trattamento finale che blocca il colore e guanti ovviamente con le istruzioni bellissimo lo faccio anche questo poi ve ne parlo e poi in questa busta c'è questi prodotti che mi ha ordinato mia sorella insieme al dentifricio e ha preso i fantastici prodotti per stirare questi sono degli spray che passati sui capi aiutano a togliere l'elettricità statica ecco passando sopra le mani possiamo i capi tornano belli insomma con il tessuto tirato senza bisogno di stirarli ma si può utilizzare anche prima di usare il ferro da stiro è un prodotto fantastico ho fatto il video dimostrativo sulla mia pagina facebook della faberli che trovate il link sotto l'ha visto e l'ha voluto prendere ho avuto anche altri ordini da altre persone che l'hanno visto perché è veramente un prodotto meraviglioso e costa un euro e 79 quindi spese alla grande quindi questo era l'altro ordine che ho mandato in questo fine settimana rimanderò un altro e quindi niente poi ci vediamo al prossimo spacchettamento mi raccomando se volete sapere come entrare in faberlic scrivetemelo e o contattatemi sulla mia pagina facebook lì c'è scritto tutto ho spiegato tutto solo tantissimi vantaggi per chi entra i prodotti sono veramente fantastici costano poco ma valgono davvero tantissimo li sto amando alla follia sto provando piano piano tutto un altro dentifricio al carbone si questa è persia erica l'ha ordinato lei e li stiamo amando come sono questi dentifrici buonissimi una volta ho provato questo al carbone sono fantastici veramente amiamo follemente i prodotti della faberli che sono di altissima qualità nico ama la nucchi si poi mamma ti fa provare pure quelle per i bambini anche la techno kids e quindi niente scrivetemi o contattatemi su facebook per avere altre informazioni ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti